Bentornate nel mio canale! Oggi un'altra ricetta con i fichi freschi, una torta rovesciata morbidissima. Per prima cosa, pelate mezzo limone bio, ci servirà la buccia, che frulleremo con 140 g di zucchero. Eccolo qui, lo zucchero a velo aromatizzato al limone. Ora imburriamo uno stampo da 24 cm e alla base mettiamo un po' di zucchero di canna, io ne avevo poco e l'ho mischiato con lo zucchero bianco. Ora sistemiamo le fettine di fichi con la buccia ben lavati fino a ricoprire tutta la base. Prepariamo l'impasto della torta, lavoriamo 4 uova a temperatura ambiente con lo zucchero a velo, ricordate sono 140 g. Ora aggiungiamo 200 g di farina 00 setacciata e una bustina di lievito per dolci. Infine aggiungiamo 80 ml di olio di semi di mais oppure 100 g di burro fuso, sciolto e freddo. Eccola pronta, ora basta versarla sopra i fichi. Infornate a 180 gradi statico per 40-45 minuti, mi raccomando fate la prova a stecchino. Mi raccomando rovesciatela subito bollente. Eccola qui, morbida e dolce al punto giusto, grazie ai fichi. Se volete potete tagliarla e farcirla in mezzo con crema pasticcera. A me piace così mangiarla a colazione, nel latte e caffè. Lasciami un like se anche questa ricetta ti è piaciuta. Ciao!